Grandi soddisfazioni dai canottieri regionali. Al termine della prima prova della Coppa del Mondo 2016 che si è svolta a Varese nel weekend appena trascorso, il direttore tecnico Giuseppe Lamura ha diramato le convocazioni per gli atleti che parteciperanno ai raduni di valutazione e preparazione sia alle qualificazioni olimpiche sia alla seconda prova di Coppa del Mondo che si disputeranno sul Rotzee a Lucerna. Nel caso specifico dei pesi leggeri di punta, passati dagli 8 dei 2 4 senza a 10, la direzione tecnica ha anticipato il loro raduno alle ore 19 di domenica. Pietro Sfiligoi e Lorenzo Tedesco del Saturnia saranno quindi tra i primi a rispondere all'appello federale che avrà lo scopo di varare il 4 senza dei pesi leggeri in vista dei giochi olimpici di Rio de Janeiro. Dopo le ottime prove di Varese aumentano le quotazioni dei due canottieri del Saturnia che ora dovranno confermare le ottime sensazioni di quello che attualmente risulta essere il miglior 4 senza leggero italiano.